Sacro profano e polemiche, assolutamente non banali le feste in onore di San Pietro e Paolo nel popoloso quartiere di San Pietro a Lanciano. Tre giorni di festa, ricco carne di spettacoli e una performance, secondo alcuni, un po' esagerata di burlesque che ha generato qualche critica. All'interno della sfilata organizzata da Silvio Luciani, alcuni momenti di intrattenimento a cura dell'attrice teatina Giulia Di Quilio hanno attirato particolari attenzioni. Il burlesque è un nudo d'arte, uno spogliarello se vogliamo raffinato, ma qualcuno non ha gradito tanto ardore nel bel mezzo delle celebrazioni della parrocchia e la popolazione si è divisa tra innocentisti e colpevolisti anche se le interviste da noi raccolte tendono tutte ad assolvere artista e organizzazione. Però la visarmonica è stata brava. E la signorina che ballava? Anche la signorina, mi è piaciuta perché io guardo le donne. Non ho sentito niente, io vivo un po' in disparte. Quindi non sa a cosa mi sto rifarendo? No. Lo spettacolino di burlesque? Come di ripiana, ma ripiana. Ma non mi ha detto. Che cosa gli hanno detto? Mi ha detto che è bello, ma non l'ho vista. Però la gente si è espressa con parola. Sì, ci stavo. Andiamo allo spettacolo la sera dopo, stavo pieno e pieno di gente. E cosa le hanno detto? Mentre che hanno visto qualcosa, si capite già. Ma è favorevole o contrario? Ma per me le donne sono tutte belle. Però se lo vedo, allora posso giudicare. Sempre col permesso della signora però. Però non hai sentito parlare? Sì, sì, come no. In che toni? Ottimi direi. Dari miei amici perlomeno è piaciuto. Ai maschietti? Beh, penso di sì. Più che, vabbè. Mi è piaciuto tanto. È stato bello? Tutto bene. Le feste quest'anno sono state bellissime. E le polemiche che sono circolate? Ah, per... Per il nudo? Ma no, mi è stato così fatto bene. Vieni Antonio. E poi non è stato volgare, capito? No, mi è piaciuto. Quindi è un'esperienza da ripetere. Ma perché no? C'è tante cose. Se uno riflette, sono cose così gravi, così schifose. Ma non mi è sembrato proprio male, assolutamente. Giulia Di Quilio, famosa per aver partecipato al film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, è conosciuta anche per le sue apparizioni in tv, ad esempio nei Cesaroni e nel programma Sky Lady Burlesque. Parola all'organizzatore Silvio Luciani. Diciamo che a frutto del lavoro fatto non mi aspettavo questa ondata di chiacchiere in giro. Comunque il lavoro è stato fatto in maniera professionale, più che parlare magari del burlesque in sé per sé, c'è stato un lavoro dietro di uno show nuovo, innovativo, dove non c'è stata la presentatrice sul palco e dove magari abbiamo creato questa voce fuoricampo con un arte, mode e spettacolo uniti insieme in un'ora e mezza, diciamo, con scioglievolezza. Più che altro a San Pietro era da tanto che non ritornava un sacco di gente come è stato in questo evento e quindi per il resto penso che, diciamo, rimangono chiacchiere. È stato bello quello che è stato visto, tutto sommato. Poi se n'è parlato, se n'è parlato, se ne continuerà a parlare qui? Anche tanto, direi. Una bella pubblicità per le feste di San Pietro. Sì, 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 senz'altro. È stato un bel nudo però, eh? Un bello spettacolo, dai. Nudo d'arte.